buonasera oggi vi spiegherò come si fanno i pop corn in modo semplice e veloce e gustoso allora per prima cosa si mette l'olio si mette l'olio dobbiamo coprire il fondo ed immettiamo sporchiamo il fondo circa lo spessore di un chicco del mais deve essere non deve mettere tanto olio lo spessore appena sporcare il fondo con l'olio lo spessore di un chicco del mais poi accendiamo il fuoco ora buttiamo il chicco sentinella che ci avvertirà quando è pronto quando è pronto l'olio la temperatura dell'olio e dopo Abbiamo raggiunto la temperatura dell'olio, adesso buttiamo il popocorno. Adesso mettiamo il tappo e adesso avviene lo scoppio, ora inizia a scoppiettare il mais. Alla prossima. Alla prossima. Sono finiti di scoppiare, togliamo il tappo e il gioco è fatto. Li mettiamo, qua li vediamo, sono tutti scoppiati, non è rimasto neanche uno bruciato. Arrivederci e alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.